gusci astrali curammo il ragazzo nero per una grave lesione cutanea alla gamba sinistra una malattia parassitaria che si chiama bottone di bagdad se la prese perché il ragazzo era uno di quelli che non marcava visita finché reggono a stare in piedi mentre lo curavamo per il bottone di bagdad gli venne la malaria cerebrale in quella specie di ospedale dove lavoravamo non avevamo niente per curare quest'altra malattia quasi nessuna medicina e nessuna attrezzatura finché non riuscimmo a farci da noi delle soluzioni di chinino da iniettare per endovena un rischio tremendo ma non potevamo fare altro il ragazzo si riprese bene ma durante la fase acuta della malattia quando farfugliava parole senza senso mi resi conto che era visitato da gusci astrali da forme energetiche rassomigliabili ai cadaveri del piano fisico i gusci astrali sono energie residue abbandonate dalle anime che in passato li hanno abitati portando con sé per sempre le loro acquisizioni superiori i gusci astrali cercano ancora energie vitali che gli permettano di non dissolversi e le cercavano nel ragazzo rimasto in coma la vitalità dei gusci non proviene più dalle anime che una volta hanno contenuto ma dall'esistenza viva che il ragazzo in coma rappresentava mentre viveva nei piani superiori di esistenza grazie a tutti Grazie a tutti